Alcuni con lo sguardo ancora assonnato, il passo poco convinto, altri elettrizzati all'idea di rivedere i propri amici e forse anche le maestre. Qualche parcheggio selvaggio e traffico nel caos in zona, genitori accalcati ai cancelli per l'ultimo saluto prima dalla campanella. Al via ufficialmente era le 8 di questa mattina il nuovo anno scolastico per gli allunni delle scuole primarie e statali, ovvero delle vecchie elementari, tornati in classe per affrontare la nuova avventura didattica. Non tutti però, altri loro colleghi delle scuole paritarie, prolungheranno sino a martedì le loro vacanze. Oggi prima campanella anche per gli studenti delle scuole medie Virgilio e Vida, ieri invece per quelli della Campi e dell'Anna Frank. Il rientro è previsto per tutti per il giorno 12, quando poi si sarà a ranghi completi.